È stata sicuramente una scelta anche voluta per dare un messaggio che è un'azienda unica dove tutti collaborano, dove tutto il sistema si integra a vicenda, tutti i vari reparti, i vari livelli, il sistema infermistico e anche quello medico. Con questi nuovi dirigenti siamo molto fiduciosi di poter affrontare le sfide che ci attendono, il cambio demografico, ovviamente la medicina che continua a svilupparsi anche sul piano scientifico, però abbiamo personale dirigenziale altamente qualificato, tanti rientri anche dall'estero, da altre regioni e soprattutto tanto motivati e con uno spirito di squadra che oggi è stato sottolineato.